L'emergenza dei rifiuti è uno degli argomenti più spinosi che sono sotto gli occhi di tutti in questi ultimi periodi in provincia d'Imperia, ne parliamo con l'avvocato Fabio Natta, amministratore di lungo corso, sindaco di Cesio, è stato anche presidente della provincia, quindi chi meglio di lei ci può inquadrare questo problema, ricordiamo che si paventa la realizzazione di una nuova discarica, tra l'altro una anche nel comune di Imperia e sicuramente ci sarà un rimbalzo verso l'alto della bolletta Tari che in un momento come questo non è sicuramente una bella notizia per i cittadini Natta. Diciamo che nella fase difficile che stiamo attraversando c'è anche questa problematica, io però mi permetto di essere abbastanza fiducioso sotto questo profilo per tutta una serie di motivi, perché la provincia d'Imperia ha negli ultimi anni segnatamente, a cominciare dall'amministrazione Sappa con l'assessore Ballestra e poi con l'amministrazione che ha avuto l'onore di presiedere da ultimo con quella di Abbo e in questi ultimi mesi con quella Scaiola, ha affrontato la tematica rifiuti in maniera concreta, perché ha fatto le cose che la legge e la regione impongono di fare, ovvero sia gli ambiti, cioè le zone di conferimento prima i 66 comuni andavano ognuno per i fatti suoi e individuando un progetto finale per la gestione del rifiuto, che sarebbe il famoso biodigestore. Ecco, su questo io vorrei spendere due parole, il biodigestore non è una cosa semplice, è come costruire una centrale, non dico atomica, ma qualcosa forse che ci si avvicina da un punto di vista tecnico. E per arrivare alla fase in cui siamo arrivati adesso, dove c'è già un progetto a gara, occorreva tutta una serie di passaggi, forse si poteva far prima, sicuramente sì, però comunque è stato fatto, questi passaggi sono stati fatti. Per fare, tornando all'esempio della fabbrica, non c'è solo l'idea di costruire una fabbrica o una centrale, come dicevo prima, c'è il terreno dove farla, l'accordo col proprietario, nel caso specifico il comune di Taggia che percepirà delle royalty, le dimensioni di questa fabbrica, i contenuti tecnici perché si è discusso sul biogas, sulla produzione di plastica, su tutta una serie di dettagli tecnici che vi risparmio perché sono veramente da addetti ai lavori, fino anche sulle caratteristiche finali che deve avere questo impianto, con la condivisione politica di tutti i sindaci del territorio, del consiglio provinciale che ne ha dichiarato la pubblica utilità e con tutti i passaggi di autorizzazioni regionali. Solo la valutazione di impatto ambientale a livello regionale ha portato via più di un anno, tanto per dire che per realizzare una struttura così complessa occorre fare tutta una serie di passaggi. Noi oggi è come se avessimo in mano da costruire una cosa molto complessa dove c'è già il progetto, c'è già il terreno dove farla, c'è già l'accordo col proprietario e c'è già la gara in atto. Dobbiamo solo scegliere tramite la gara chi la fa e cercare di farla fare più velocemente possibile. Diverso è in altre zone della Liguria, perché dico questo? Perché questo ci può consentire a mio avviso, può consentire alla provincia in primo luogo, perché poi l'interprete principale in questa fase a livello territoriale è la provincia, di andare a trattare con Regione che è quella che ha ruolo di gestione complessiva di tutta la Liguria, la politica dei rifiuti, lo avrà ancora in maniera più marcata in futuro perché probabilmente verranno anche introdotte da Regione Liguria delle modifiche legislative che danno ancora più forza alla Regione in questo ruolo. Quando la provincia d'Imperia dovrà andare a trattare con Regione dicendo cerca di garantirci questa fase transitoria, quella che lei paventava attraverso la realizzazione di un'ulteriore discarica, io credo che sia logico invece in questa soluzione già identificata dalla provincia d'Imperia che la provincia d'Imperia venga premiata perché in questo periodo transitorio di 3-4 anni i rifiuti possono essere portati altrove con dei costi contenuti o con degli aumenti possibilmente inesistenti. Ecco appunto, Nata lei ha citato la Regione, il Presidente Totti ha dichiarato che non ci saranno aumenti, dobbiamo prendere per buona questa dichiarazione perché come dicevo in apertura si paventa un imbalzo notevole delle bollezioni. Ma io la voglio prendere per buona anche perché il Presidente Totti ormai governa la Regione da qualche anno e quindi ha seguito tutto questo itere insieme all'assessore Gianpedrone che è quello competente. Vennero qua a inaugurare il famoso lotto 6 che è la prima discarica pubblica di tutto il territorio Ligure. Un altro segnale di come in questa provincia si sia lavorato in questi anni con fatti concreti. Questi sono dati di cui Regione Liguria non può non tener conto, ma non per fare dei discorsi di campanile perché non sta neanche a me farli e poi visti anche i ruoli che ho ci mancherebbe altro a livello regionale sotto il profilo della rappresentanza dei comuni. Però indubbiamente ci sono delle realtà territoriali che vanno in deroga da tanti 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 anni. L'Imperia non sta andando in deroga. Questo è un qualcosa che sul tavolo delle trattative, chiamiamole così politiche, sicuramente Scaiola, Presidente della provincia, potrà mettere sul tavolo, oltre alla sua esperienza, la capacità negoziale che credo che nessuno mette in discussione. Bene, prendiamo per buone queste dichiarazioni del Presidente Totti. Speriamo che non ci siano questi paventati aumenti o che comunque siano contenuti. Grazie in atta di essere stato con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi. Alla prossima.